Il bilancio sia la prima variazione alle integrazioni del documento di economia e finanza approvati a maggioranza gli ultimi atti relativi al bilancio regionale prima della pausa estiva. Rievocazioni storiche approvata la legge stanziato mezzo milione per valorizzare le manifestazioni di cultura popolare in Toscana. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. L'attività del Consiglio regionale è ferma per la pausa estiva ma stasera andremo a trattare alcuni argomenti che sono stati affrontati nel corso dell'ultima seduta del Consiglio. In particolare gli argomenti relativi al bilancio. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con i voti favorevoli delle PD e Italia Viva e quelli contrari di Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia l'integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2021 e i documenti legati alla prima variazione di bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Gli atti sono stati illustrati in aula dal Presidente della Commissione, Giacomo Bugliani, che sentiremo per primo nelle interviste e poi a seguire i rappresentanti dei gruppi politici. In tempi molto rapidi è arrivata la variazione di bilancio. Il Consiglio regionale e le Commissioni in pochi giorni hanno dovuto affrontare la più importante misura finanziaria dall'inizio dell'anno ad oggi. una misura che prevede dal punto di vista della spesa una compartecipazione imponente della Regione Toscana al cofinanziamento in vista della nuova programmazione comunitaria relativa ai fondi FEASR e FSE. Si tratta di misure importanti da questo punto di vista che ci preparano a un nuovo ciclo di programmazione che si affiancano a una serie di interventi puntuali che cercano di essere la risposta che la Regione Toscana dà in questo momento dell'anno alla crisi economica e sociale che è nata dalla pandemia, andando ad intercettare quelle categorie e quei contesti nei quali è diventato più stringente la necessità di un sostegno pubblico, in particolar modo dal settore della cultura alla scuola fino ad arrivare alle attività economiche e commerciali e anche ai complessi fieristici. Si tratta infatti di misure che valgono a dare un sostegno effettivo a coloro che operano in questi settori. Dall'altra parte c'è anche però l'esigenza di intervenire con adeguate misure, con validi strumenti, su un settore altrettanto delicato e strategico del territorio regionale che è quello della viabilità pubblica. Attraverso una serie di misure di sostegno che vanno ai territori, agli enti locali, soprattutto con misure imponenti che riguardano il Comune di Firenze, la provincia di Pistoia e Pisa. Il commento io credo che debba essere rivolto più che alla Commissione a Bugliani e alla Giunta. Non è possibile che questo materiale così importante, così delicato, che ha bisogno di un approfondimento sul territorio e anche tecnico, arrivi in fondo e ci si chieda di essere portato in aula cinque giorni dopo. Noi abbiamo vissuto questa settimana fitta di consigli, avevamo nel Consiglio che si è chiuso pochi giorni fa 21 atti all'ordine del giorno tra proposte di legge e proposte di risoluzioni. Quindi ci è stato di fatto impedito come consiglieri di poter approfondire e quindi fare il nostro lavoro. Questo per noi è inaccettabile, abbiamo già chiesto alla Capigruppo che non si ripeta più, però ovviamente bisogna rimarcare il fatto che non siamo stati messi in condizione di svolgere le nostre funzioni, quelle dell'opposizione, quelle dell'approfondimento, quelle anche di poter proporre qualcosa di alternativo. Perché per farlo abbiamo bisogno di tempo. Il tempo non ci è stato dato e questo è un problema grossissimo di programmazione che ha questa Giunta. Speriamo che non si verifichi più perché credo che una buona maggioranza funziona anche se c'è un'ottima opposizione. E l'opposizione loro non la mettono in grado di poter lavorare. Un bilancio importante. Abbiamo fatto bene a forzare per approvare entro la pausa estiva il bilancio di previsione e le relative variazioni e defre. Era doveroso perché i comuni aspettano risorsi della Regione, le imprese li aspettano, le infrastrutture, l'agricoltura, la montagna. Tanti investimenti. Penso alla disabilità, penso alla viabilità, penso a tante questioni importanti. Il bilancio è la cosa più importante. Altre discussioni possono attendere anche dopo l'estate. Adesso aver chiesto la candidarizzazione della versione di bilancio secondo me è stato positivo e noi sosterremo convintamente questa variazione che ha trovato risorse importanti in tanti settori e anche richieste che noi avevamo fatto. Penso all'agricoltura, penso al sociale, penso ai tartufai, penso alle viabilità, a questioni di carattere formativo, scolastico e delle università. Il 2020 ovviamente è stato un anno segnato da una particolarità che è quella appunto della pandemia che ha determinato pesanti ripercussioni non solo sul versante della sanità ma anche su quello economico. È stato anche l'anno dell'avvicendamento. Ci sono state le elezioni, si è passato da un'amministrazione ad un'altra. Ecco, ciò nonostante è la stessa Corte dei Conti a certificare che la regione toscana ha retto bene dal punto di vista finanziario. Un dato su tutti è quello del risultato di amministrazione che fotografa lo stato di salute dal punto di vista finanziario appunto della regione toscana. Il dato è di un positivo per 97 milioni, un dato positivo che non si registrava da quasi 10 anni, quindi è un elemento anche gratificante e rassicurante rispetto ad un equilibrio finanziario e un pareggio di bilancio che la regione toscana mantiene. Ma se vogliamo anche dare una sottolineatura politica a questo rendiconto, andando oltre anche i meri dati contabili e di bilancio, vorrei dire che questo è avvenuto mantenendo inalterata la pressione fiscale. Quindi i toscani non hanno anche per il 2020 sopportato aumenti di imposte e tassi. C'è stato un incremento degli investimenti, c'è stata un'attenzione sulla gestione anche delle principali partite, quella del personale ad esempio, quella patrimoniale e c'è anche un elemento positivo che è dato dalla tendenza che prosegue ad una gestione finanziaria che migliora di anno in anno i propri parametri. Allora un dato è sicuramente certo che sono stati spesi centinaia di migliaia di soldi pubblici di fatto per cercare di alleviare quella che è una situazione di deficienza strutturale di un'opera che però è strategica, che ad oggi non ha neanche ricevuto il bollino di opera di interesse nazionale, perché questo è il vero problema. Noi purtroppo scontiamo una sostanziale difficoltà nella sovrapposizione di competenze tra regione e città metropolitana che non agevola gli interventi, che sono spesso fatti in sommorgenza, spesso anche disponendo di risorse importanti. Il caso della Frana è stato emblematico, 4 milioni di euro per risolvere un problema che di fatto però si scontra con la fragilità di un territorio. Quindi di fatto è un grande punto interrogativo quello che sarà il destino di quest'opera. Non sappiamo se ci saranno adeguamenti, non sappiamo quando ci sarà la prossima emergenza. Quindi è una situazione di incertezza che però invece l'unica cosa certa è quella del traffico, è quella del calvario a cui purtroppo sono sottoposti quotidianamente gli automobilisti. È un'arteria che meriterebbe di essere magari collocata tra le opere strategiche di livello nazionale che avrebbe in questo caso consentito magari anche l'utilizzo dei fondi europei. Così non è e ad oggi invece scontiamo ancora delle difficoltà oggettive. Guardate, lì dentro, dentro il documento economico e finanziario della regione toscana e nelle due proposte di legge che parlano della variazione di bilancio non c'è niente che ci porti a votare a favore. Non ci sono misure di sostegno alle nostre imprese, alle nostre famiglie, non ci sono misure di sviluppo del nostro territorio, non c'è programmazione, non c'è una visione della regione toscana. È una legge mancia. Le parole hanno un peso e le leggi devono essere chiamate come sono. Ci sono soltanto delle piccole mancettine ad associazioni culturali. Pensate che il 3% di quel documento lì è destinato alla valorizzazione e alla promozione delle associazioni culturali che per noi la cultura vale, sì è importante, ma vale 5,3 miliardi del PIL della regione toscana. Mentre per le imprese, per il sostegno all'export, per il commercio, per il turismo, per tutte le misure che riguardano le nostre imprese, che nella nostra regione il nostro PIL vale 143 miliardi, il 70% è fatto da quel spicchio lì, c'è soltanto lo 0,98% delle risorse. E allora ci domandiamo come possono essere aiutate le imprese in un momento così difficile. La Toscana, secondo i dati della Banca d'Italia, è la prima regione in Italia ad essere stata duramente colpita. Abbiamo perso il 13,8% del nostro prodotto interno lordo. E come si pensa di aiutare le imprese? Dando le mancette. Ecco, noi siamo contrari a questo modo di fare politica. Non è il modo di Forza Italia. Abbiamo sempre pensato che dobbiamo aiutare le imprese, perché aiutando le imprese si aiuta i lavoratori e le famiglie. Ecco perché abbiamo chiesto misure di interventi strutturali per aiutare la nostra economia. Non certo dare qualche centinaia di migliaia di euro a chi non porta lavoro, a chi non porta economia. E poi non c'è una misura sostanziale, non ci sono le infrastrutture, non c'è nessuna parola sullo sviluppo dell'infrastruttura più importante del nostro territorio. L'aeroporto di Firenze, anzi in quel documento economico e finanziario della regione toscana, l'aeroporto di Firenze viene quasi declassato, non viene assolutamente menzionato. Ecco perché abbiamo portato un ordine del giorno all'attenzione del Consiglio regionale, che mi auguro tutte le forze politiche voteranno, che dice una cosa chiara, si vada avanti col nuovo aeroporto di Peretola, con la nuova pista in un sistema regionale di alleanze fra Pisa e Firenze. Perché se il sistema aeroportuale toscano non va avanti, la Toscana perderà e ne beneficerà soltanto Bologna. Convintamente contrari perché innanzitutto ci è stata buttata letteralmente addosso, proprio a breve distanza dal documento regionale di finanza e da molti altri atti corposi. E' chiaro che è stato fatto per non darci la possibilità di analizzarlo, ma in realtà guardandolo con un occhio un poco più attento, ci siamo accorti che sono soltanto dei piccoli interventi localistici, probabilmente per esigenze che ben poco hanno a che vedere con il più ampio respiro che una variazione di bilancio dovrebbe avere. Per esempio ci aspettavamo di più per i PETS, i programmi educativi zonali, ci aspettavamo più per altri settori, invece ci siamo accorti che è stata una manovra semplicemente con altri scopi, ma senza niente di rilievo, addirittura con delle erogazioni ulteriori straordinarie, in realtà ordinarie perché avvengono ogni anno alla Fondazione Alinari, al Festival Pucciniano e assolutamente fuori luogo secondo me in momenti emergenziali come questo. In realtà più che negativa è quasi impossibile da valutare come nostro di aggiornamento perché ci è arrivato due giorni fa con la preghiera di licenziarlo entro la pausa estiva dei lavori per motivi di massima urgenza e questo ovviamente una volta lo puoi concedere, basta che non diventi prassi, però diciamo che è stato quasi impossibile capire cosa c'è all'interno di questa nota di aggiornamento. Da quel poco che abbiamo visto, parole al vento e anche malfatte, faccio un esempio su tutte, l'aspetto sanitario, che insomma non credo che purtroppo sia ancora un aspetto secondario né in Toscana né altrove, sulla sanità se uno legge la nota di aggiornamento al documento economico e finanziario della Regione Toscana, la nota inizia dicendo che nei primi mesi del 2021 la Toscana inizierà un piano vaccinale contro il Covid-19, cioè è aggiornato a un anno fa. Quindi questo è quello che ci viene proposto di votare in aula. Su altri aspetti ci sono considerazioni veramente superficiali, il sistema della mobilità è demandato tutto a un'esaltazione della tranvia fiorentina come sistema di collegamento per l'intera area metropolitana, che è una follia, è un'infrastruttura che a Firenze ha canterizzato la città per 11 anni per collegare ancora oggi un terzo di città, la vogliono proporre come metodo di collegamento tra Firenze, Prato e Pistoia. Cioè forse nel 2090 con questi ritmi avremo un sistema di collegamento. Quindi un documento che dice poco o niente, quindi il nostro voto sarà un voto molto politico, un voto contrario molto politico. Cambiamo argomento, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge sulle rievocazioni storiche stanziati 500 mila euro all'anno per valorizzare identità e culture popolari. Sentiamo la Presidente di Commissione Cristina Giacchi e poi Diego Petrucci di Fratelli d'Italia. È una legge molto importante che è stata approvata nel Consiglio di mercoledì 28 luglio e che prevede non soltanto, rende operativo lo stanziamento di 500 mila euro all'anno che era stato previsto nel bilancio, ma prevede grandi novità dal punto di vista delle modalità di erogazione. Le associazioni e le istituzioni che realizzano rievocazioni storiche potranno coprogettare con gli enti locali gli eventi, le cerimonie, le iniziative secondo le modalità previste dalla legge sul terzo settore. È la prima applicazione della riforma del terzo settore che abbiamo visto nelle scorsi mesi essere approvate e che adesso davvero trova realizzazione. È una legge la nostra che ha cercato di andare incontro alle esigenze delle associazioni che realizzano queste importanti rievocazioni così sentite dalla cittadinanza e che anche ha cercato di sollecitarne e sottolinearne il valore culturale. La novità della collaborazione con le scuole sia nella fase di progettazione sia dal punto di vista poi della fruizione degli eventi è uno di questi elementi. È l'istituzione di un osservatorio scientifico, diciamo così, che sorvegli sulle iniziative, sul calendario, che dia un contributo di consulenza è l'altra novità importante. Ecco, una governance che avrà il suo centro nella regione, consiglio e giunta e nella collaborazione soprattutto con le associazioni presenti in tutto il territorio oltre che con una componente di sindaci che rappresentano le istituzioni e gli enti locali che poi sono i primi protagonisti insieme alle associazioni di questo mondo affascinante, complesso e molto molto vicino ai sentimenti dei toscani e delle toscane che è quello delle rievocazioni storiche. Una buona legge sciupata dalla Commissione in Regione perché anziché mettere come rappresentanti dell'organo di governo della legge che stanzia circa 500 mila euro l'anno per i prossimi tre anni i sindaci dei comuni capoluoghi che era una cosa, diciamo, oggettiva e neutra invece si demanda all'Anci di scegliere quali saranno i sindaci e quali saranno i comuni che governeranno questo processo e questo procedimento. È un modo arbitrario di intendere la politica e soprattutto speriamo che Anci sia in questo caso imparziale e non voglia invece fare una congrega di partito come molto spesso abbiamo visto fare ad Anci. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio vi ringrazio per l'attenzione ci rivediamo a settembre.